La donna è l'armonia, è la poesia, è la bellezza. Senza di lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. Dove le donne sono emarginate è un mondo sterile, perché le donne non solo portano la vita, ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre, di sentire le cose con cuore più creativo, più paziente, più tenero. A me piace pensare che la Chiesa non è il Chiesa, è la Chiesa. La Chiesa è donna, è madre, quello è bello. Le donne sono più coraggiose degli uomini.